10 progetti che fanno dell'innovazione e del rispetto dell'ambiente il loro tratto distintivo. 10 progetti, quelli selezionati dalla regione Campania, che hanno tutti l'obiettivo di sviluppare la green economy portando un impatto significativo e visibile sul territorio campano. Tra le idee pervenute in occasione dell'iniziativa intitolata Creative Clusters, promossa da Campania Innovazione, ad esempio quella di utilizzare la paglia opportunamente trattata come materia prima per l'isolamento termico degli edifici, poi c'è il progetto di un reattore biologico compatto che permette il trattamento dei rifiuti organici per produrre energia elettrica in piccola scala. Le idee selezionate nei prossimi mesi saranno assistite da Campania Innovazione nel loro percorso verso la verifica di fattibilità, insomma la creatività al servizio dell'ambiente per migliorare le condizioni del territorio e insieme contribuire allo sviluppo economico nel settore delle energie rinnovabili. Soddisfatto del risultato dell'iniziativa, l'assessore regionale all'innovazione all'Università Guido Trombetti. La green economy è l'economia di oggi e di domani ed è un'economia che da un lato tende a difendere e valorizzare l'ambiente, dall'altro a sfruttare le opportunità che l'ambiente offre. La cosa interessante del creative cluster, così si chiama questa iniziativa, è lo stimolo ad avere idee innovative. E a proposito di energia, la regione lavora su più fronti per ridurre anche il costo delle bollette, come spiega l'assessore regionale alle attività produttive, Fulvio Martuscello. Avevamo immaginato una campagna green e andiamo avanti verso questo nostro obiettivo. Vale la pena ricordare che lunedì è stato pubblicato un bando che vale 115 milioni di euro per garantire l'efficientamento energetico ai comuni della nostra regione. È incredibile che la regione campagna compri energia dalle altre regioni. Questo naturalmente incide sulla bolletta della luce dei cittadini.